la scuola prima ok, allora votiamo per la numero 3 rivediamo il nome? Donato Paola hai detto che vuoi fare prima la scuola e poi? altre cose grazie, un applauso numero 4 numero 3 è bello della diretta mi chiamo Francesca Gratta ho 12 anni sono numero 4 e da grande che vuoi fare? il mondo della tv il mondo della tv vuole entrare nel mondo della tv 12 anni, numero 4 non ti muovere fai una bella posa così posso vedere il numero perfetto, un applauso numero 5 mi chiamo Cristia Lupo e sono la numero 5 e da grande mi piacerebbe fare l'attrice e la cantante hai visto? è decisa proprio allora vediamo il numero 5 ok, guardiamo anche la numero 5 e mi raccomando da casa se volete votare votate anche voi il numero 5 grazie allora proseguiamo numero 6 numero 6 ti chiami? mi chiamo Sara Le Rose ho 12 anni e da grande voglio fare l'ostretica l'ostretica Massimo il prossimo figlio che farò ti chiamerò allora vieni dalla da Papadice vieni da Papadice, dalla Calabria un applauso numero Soraya numero 6 ok? ha chiesto la signora prego numero 7 mi chiami? Aurora Raspanti ho 12 anni e da grande vorrei fare l'attrice l'attrice Massimo allora votiamo per la numero 7 vado a inquietrare guarda la telecamera un primo piano così la posso vedere bene ecco numero 7 7 eccola qua si chiama? Aurora Raspanti ok grazie numero 8 8 tuo nome? Tabbone Maria Chiara sono il numero 8 e mi piace da grande fare il cantare vuoi cantare? quanti anni hai? 10 ok dopo ci canti una chiena che deve cantare dopo chi ha detto che canta? tu canti ok perfetto ok grazie ok numero 9 9 mi chiamo Ilenia Cristiani ho 12 anni e sono il numero 9 da grande vorrei fare la ballerina ok una ballerina Massimo abbiamo di tutto ma non dobbiamo ripetere il numero numero 9 Ilenia numero 9 vediamo i numeri numero 10 mi chiamo Schiavo Carmen e sono il numero 10 e da grande voglio fare la ballerina quanti anni hai? 10 10 tutto 10 10 10 10 ok queste sono le nostre junior allora carissime eh eh hai visto che toglie sono stata brava allora queste sono le nostre junior fate un applauso mazzareno le prime gioielli precisiamo sono le prime junior queste ragazze saranno sempre nello storio allora ho presentato proprio in primix il messaggio che abbiamo lanciato eh e poi perché noi abbiamo qui il creatore della scarpetta della violenza dopo ce ne vediamo uno se ce l'ha ok va bene ragazze siete state bravissime vi salutiamo e ci vediamo dopo dai allora allora Massimo adesso andiamo con le ragazze con le nostre miss con le nostre miss allora tu ti metti il serviccio sempre di là ma il microfono che faccio beh no mettiti di là vai di là ecco allora chiamiamo la numero uno vieni ecco per la giuria bisogna votare da uno a cinque in studio da casa dovete dare il nome e il numero adesso siamo nella categoria normale giusto nella allora tu sei prego il microfono mi chiamo Buona Sofia sono della Calabria Petilia Policastro provincia di KPR Crotone sono la numero la numero uno e da grande il mio sogno nel cassetto fin da piccola era di diventare una bravissima attrice grazie grazie io vi chiedo mi chiederei più che dire la provenienza dite un po' quelle che mi piace fare ok prego la numero due e anche l'età se mai mi chiamo Pone Giasmin vengo da Tiriola provincia di Catanzaro e da grande mi piacerebbe fare la stilista io sono il numero due ok l'età quante anni hai? ho sedici anni sedici anni numero due allora ripeto preferiamo che dite più di voi che la provenienza dite l'età quello che volete fare è tutto grazie numero tre buonasera sono Chiara Leo sono di copertino sono al numero tre mi piace tanto ballare e da grande vorrei fare l'attrice mettiti così grazie passo velocemente prego numero quattro buonasera mi chiamo Iora Falcone ho sedici anni e da grande mi piacerebbe tanto intraprendere gli studi di medicina fermate un secondo davanti alle telecamere ok grazie prego io do il microfono io passo il microfono buonasera a tutti io sono Irina Marchio 19 anni sono la numero cinque da grande mi piacerebbe fare l'attrice oltre alla passione della moda io faccio anche il clown di corsia il clown si il clown di corsia che bello quindi portare un sorriso ai bimbi ecco questo è molto bello ci vuole venire in asetto rosso grazie ciao prego facciamo così buonasera a tutti sono Chiara Zagalona ho 15 anni e da grande il mio sogno è diventare un'attrice grazie tagli il mio però ricordate il numero non è ricordato il numero ciao sono Cinzia ho 19 anni scusate vengo da Nardò faccio kickboxing da grande spero di lavorare nel mondo dello spettacolo come ballerina il numero il numero 7 ok numero 7 7 7 numero 7 buonasera a tutti sono Giada Colelli ho 15 anni e da grande vorrei diventare un'attrice o l'insegnante di ballo metti il mio che numero 6 scusami 8 guarda guarda lì 8 ripeti 8 buonasera a tutti sono Sofia Gargano ho 13 anni no 14 anni 14 scusate il mio grande sogno nel cassetto è diventare una futura attrice grazie numero 10 prego buonasera sono Maria Cirancineo il numero 10 la mia passione più grande è ballare ma da grande vorrei intraprendere gli studi di medicina ok un'altra medicina ok le prime 10 le prime 10 sono andate un applauso per le prime 10 grazie ragazzi potete andare prego prego possiamo congedarle ok seconda tranche seconda tranche delle nostre miss diciamo che le nostre miss però ci dobbiamo mettere da dietro perché devono andare loro perdono tutte tutte 10 muoviamo il musicetto muoviamo il musicetto ok ok cominciamo con la numero 11 prego vai dal centro buonasera a tutti mi chiamo Carlotta Fazio sono il numero 11 vengo da Crotone e da grande mi piacerebbe tanto fare la criminologa e appunto aiutare quelle donne che purtroppo non hanno il coraggio di denunciare la violenza buonasera a tutti sono Raquel Mironzina vengo dalla Spagna ho 29 anni e mi piacerebbe fare l'attrice grazie buonasera a tutti mi chiamo Maria Melania Fierro vengo da Longi provincia di Messina e da grande mi piacerebbe far parte del mondo dello spettacolo ho 15 anni e sono la numero 13 numero 13 farlo vedere bene diciamolo bene questo numero sono la numero 13 buonasera a tutti io sono Soviana Vallone vengo da Isola ho 14 anni da grande vorrei fare l'attrice sono la numero 14 buonasera io sono Anelli Francesca sono di Corato provincia di Bari e sono un hairstylist e possiedo il numero 15 buonasera sono Claudia Raimondi ho 26 anni sono il numero 16 e mi piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo come showgirl buonasera a tutti sono Alice Barile ho 19 anni il mio numero è il 17 e vorrei entrare nel mondo dello spettacolo buonasera a tutti mi chiamo Elena Moru il mio numero è il 18 e vorrei fare la grande l'attrice buonasera a tutti sono Maria Capone ho 22 anni e vengo da Fragola provincia di Napoli il mio sogno è quello di diventare una modella sono per voi la numero 19 buonasera a tutti mi chiamo Giulia Papaianni vengo da Catanzaro e da grande vorrei diventare attrice allora secondo il transe possiamo concedarle prego allora Giulia come sta andando fatemi vedere la Giulia la Giulia un applauso la Giulia vediamo la Giulia vai stiamo andando bene andiamo avanti vai la numero 21 poi se lo passano tra l'altro prego buonasera a tutti sono Ilenia Novello ho 17 anni vengo da Casa Buona in provincia di Crotone sono il numero 21 e da grande mi piacerebbe fare l'attrice buonasera a tutti sono Lavinia Caparo ho 17 anni vengo da Torino sono la numero 22 studio al liceo classico per diventare una giornalista ma sarebbe un sogno essere un'attrice buonasera a tutti sono Chiara Panaglia sono la numero 23 vengo da Valle Fiorita in provincia di Catanzaro e da grande vorrei fare tanto la fotomodella buonasera a tutti sono Silvia Scotto di Santoro vengo da Versa e da grande mi piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo ma allo stesso tempo mi piacerebbe fare la giornalista il mio numero è il 24 buonasera sono Loredana vengo da Lecce il mio numero è il 25 studio grafica pubblicitaria mi piacerebbe lavorare nel mondo della moda buonasera buonasera sono Angelica Jacovelli sono il numero 26 e mi piacerebbe diventare una fotomodella e un'attrice e ho 16 anni buonasera 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 mi chiamo Sine Kruger mi piacerebbe diventare un'attrice mi piacerebbe diventare un'attrice grazie buonasera a tutti sono Valeria Esposito ho 18 anni vengo da Mariano in provincia di Napoli da grande mi piacerebbe fare la fotomodella stasera concorro per voi con il numero 29 allora allora grazie concediamo pure il quarto gruppo grazie ok prego un altro gruppo Massimo sono molto recisi sei nei nostri miei qua ci siete? ci sono eh dai salve mi chiamano i miei figlioli ho 16 anni vengo da Marsala il mio numero è 30 e da grande vorrei entrare a far partire una cosa di moda allora ripeti il numero guarda la telecamera per piacere numero 30 ah che bello vai vai non scappate fatevi inquadrare vai buonasera a tutti mi chiamo Aurora Ardizzore vengo da Menfi ho 16 anni il mio numero è 31 e da grande vorrei fare la modella ok buonasera a tutti mi chiamo Alessia Ruggero ho 15 anni e frequento il liceo linguistico appunto perché da grande vorrei fare l'insegnante di inglese e sono il numero 32 bravo buonasera a tutti sono Noemi vengo da Bapanice in provincia di Crotone e il mio sogno più grande è quello di portare un po' di giustizia in questo mondo appunto svolgendo la professione di avvocato grazie è il mio numero è 33 buonasera a tutti sono Maddalena Terrone vengo da Corato sono la numero 34 mi piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo come fotomodella o attrice grazie buonasera a tutti sono Rebecca Waltiari vengo da Bapanice frazione di Crotone 35 il mio sogno è quello di fare il RIS ah ho 15 anni buonasera a tutti sono Giusebilella ho 14 anni e vengo da Villa Franca Sicola da grande mi piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo e il mio numero è il 36 ma secondo me Villa Franca Sicola si trova a Bolzano no non dici in provincia di Grigente ma tu sei di San Michele o di San Giovanni San Giovanni ma San Giovanni viva San Giovanni buonasera a tutti sono Astridianelli ho 17 anni vengo da Genova e il mio numero è il 37 e mi piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo e della moda grazie salve a tutti sono Jessica Lentini ho 24 anni vengo da Marsala dalla provincia di Trapani il mio numero è il 38 e fin dall'infanzia ho sempre nutrito la grande passione del cinema e penso e mi auguro soprattutto che attraverso questa esperienza possa vedere la realizzazione di ciò che è stato semplicemente una passione fino ad oggi buonasera mi chiamo Jessica Soria vengo da Palma Campania in provincia di Napoli il mio numero è il 39 e da grande mi piacerebbe diventare un'imprenditrice salve papà buonasera a tutti mi chiamo Rebecca Casoria ho 17 anni il mio numero è il 40 al momento sono una studentessa ho intenzione di continuare gli studi ma non mi dispiacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo grazie ok ok concediamo il quarto gruppo un applauso grazie ragazzi vai vai e allora chiudono chiudono queste 43 finaliste le nostre Miss prego prego buonasera a tutti mi chiamo Deborah Ferro vengo da Marsala provincia di Trapani in Sicilia sono il numero 41 da grande mi piacerebbe diventare commercialista in quanto studi economia però non mi dispiace comunque il mondo dello spettacolo in particolare mi affascina il mondo del cinema oh che brava vedi come è stata felice brava buonasera a tutti mi chiamo Mangano Luizia ho 17 anni sono la numero 42 da grande mi piacerebbe fare l'avvocato ma anche la fotomodella buonasera a tutti sono Chiara San Giovanni ho 16 anni vengo da Caiazzo in provincia di Caserta e da grande mi piacerebbe fare l'ossess però comunque mi piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo ok grazie 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 allora adesso abbiamo conosciuto le ragazze abbiamo conosciuto la giuria il studio sta votando ha votato la giuria con il televoto ci vogliamo collegare un attimino con il nostro televoto di Roma vediamo un po' a che punto siamo siamo un po' in orario abbiamo recuperato le ragazze adesso ritorneranno in abito da sera e poi saranno di nuovo di vista fin quando non si scoprirà chi vincerà questa trentesima edizione di ragazza cinema che cosa volevi dire vedo quest'abito bellissimo vi piace vi piace me lo fate sentire con un applauso se vi piace allora Massimo ho detto già Massimo prima io vengo dalla Calabria sono la presentatrice di ragazze cinema ok nonché patrone regionale di questo concorso per la Calabria tutta questa estate ho fatto dalla Calabria in lungo in lato tutta questa estate sia me che le mie mist sono state vestite nella boutique Coco Pino Pacienzi e Antonella che sono qui quindi chiede un applauso ecco un bacione a loro hanno vestito tutta la Calabria ringraziamo gli altri ho capito ok ok allora siamo collegati con Rosita con la dottoressa con il collegamento ci siamo anche la tua cartelletta mi passa la mia cartella vediamo un attimino pronto? c'è in studio abbiamo anche giustamente siamo amanti degli animali Tony scusa Antonio tu mi devi dire no perché mi hanno detto che tu hai scritto un libro bellissimo infatti ti ringrazio l'abbiamo presentato scusa in televisione tempo fa e te ne ho portato una copia anche a te poi te la darò più tardi o domani il pescatore di Amalfi dove racconto un po' la mia vita ci sei anche tu perché Massimo anche se non sembra io e Massimo ci conosciamo da 30 anni da ben 30 anni pensate che la sua prima modella ha fatto il suo primo manifesto no ha fatto il suo primo manifesto era la mia fidanzata è vero o no? allora Ernesto Ferri grazie a tutti grazie a tutti